Serpeggia molto malumore tra i commercianti del centro storico per i disagi patiti a causa dei numerosi cantieri. A ritirare fuori la questione è stato il consigliere Paolo Romano assieme al collega Lorenzo Rotellini. Il problema è che sono arrivati dei maxi bollettoni per la Tari. Il Comune aveva stabilito uno sconto del 50% per i commercianti, ma anche con un emendamento di poter scegliere l'opzione di avere un ristoro tramite legge regionale. La maggior parte dei commercianti in pratica avrebbe scelto questa seconda possibilità, ritrovandosi ora in difficoltà e con soldi tanti da tirare fuori. La situazione è che abbiamo una pentola a pressione perché i commercianti non ce la fanno più, perché la situazione la conosciamo bene anche nella crisi economica, non è solamente la Tari. Oggi abbiamo dei bollettoni veri di Tari, ma abbiamo tutte le utenze, quelle che comunque sia sono i pagamenti che bisogna fare e che gli esercenti devono, ahimè, chiaramente liquidare in qualche modo. Qual è il problema? Il problema è che abbiamo un centro storico che è un cantiere e quando si fa una pavimentazione che chiaramente va fatta, si doveva prevedere e programmare quelli che dovevano essere degli oggettivi ristori che pure erano stati promessi e che alla fine invece ancora non vengono dati. Qual è lo strumento a disposizione? Lo strumento a disposizione è la legge 32 del 2019, voglio sottolineare il 2019, fatta apposta per il cratere del 2009, del 2016-17, che doveva servire per il nostro territorio e quindi per andare ad alleviare i disagi dei cantieri pubblici e che invece non si sa il motivo, non si riesce ancora a sbloccare. Su questa legge ci sono 100.000 euro che neanche quest'anno riescono a quando pare a essere ancora impegnati. La Regione Abruzzo, addetta del Presidente Sant'Angelo all'interno di un assituto di Consiglio Comunale, aveva detto che ci sarebbe stata una nota ai comuni abruzzesi per avviare questo iter di ristoro. Il fatto sta che stiamo a fine 2023, tutto questo non c'è, l'esercente che sperava in questi ristori non può contare su questi ristori e questa crisi rischia di far pagare alla città un prezzo elevato e rischia di farlo pagare ai nostri commercianti del centro storico.